Ho al mio fianco qui nella pinetta comunale di La Terza Agostino Perrone detto Costantino che è candidato al Consiglio Comunale di La Terza e anche al Consiglio Regionale Pugliese con Fratelli d'Italia. Ricordiamo che Costantino è consigliere comunale uscente. Stiamo analizzando un po', stiamo facendo il bilancio relativo a questi nove anni di amministrazione uscente, l'OPANE e in questa sede, in questo momento, Costantino vuole parlarci di una situazione particolare, un concorso appunto relativo al corpo di polizia municipale. Di cosa si tratta? Sicuramente, diciamo che quando è stato messo a bando questo concorso, all'inizio si parla dell'assunzione dei vigili, dei nuovi vigili. La possibilità che aveva in base alle casse comunali era di una unità, possibilmente la seconda dopo qualche mese. Quelli che hanno partecipato, diciamo, sapevano già che massimo due unità, però alla fine oggi si trovano assunte sei vigili. C'è stato un problema nella valutazione delle gradatorie. Loro hanno fatto, il bando diceva che si doveva fare le prove, no? Prova fisica, scritto, scritto, orale. Il bando diceva che dopo le quattro prove dovevano tirare la somma in base ai pondeggi. Non so perché sono arrivati alla terza prova, hanno fermato, hanno fatto l'ultima prova, quella orale, staccata dalle tre prove. Cioè, l'hanno fatto a parte. Io non so perché hanno fatto questo. Voi vi siete rivolti alla procura, mi pare? Sì, sì, questo è stato denunciato alla procura. Quindi ora c'è una vicenda giudiziaria in corso. Ci auguriamo che si faccia luce su questa vicenda. Noi non vogliamo, ripeto, condannare nessuno, però è giusto che se è stato fatto tutto in regola, ok. Se c'è stato qualcuno che ha sbagliato, è giusto che paghi. Io me lo auguro questo perché io non è che voglio che, diciamo, loro, diciamo che il comandante attuale era il presidente della commissione, però io mi metto dalla parte dei partecipanti. Se sanno che sono sei unità, beh, partecipano più volentieri. Tanti partecipanti, cioè tante ragazze. Tanta gente è più incentivata dal fatto che c'è un numero maggiore di sei, magari uno solo, magari due, come dire, già viene meno, si scoraggiavano. Però poi dopo qualche mese, diciamo, dopo prima e seconda vecile, hanno assunto altri quattro.